Il Centro Studi Danza Happy Dancing, diretto da Daniela Longobardo, ci presenta Marinai da Excelsior, musica a Romualdo Marenco, coreografie da Excelsior, riadattate da Viviana Petrone e Daniela Longobardo. Il Centro Studi Danza Happy Dancing, diretto da Viviana Petrone, Il Centro Studi Danza Happy Dancing, diretto da Viviana Petrone, Il Centro Studi Danza Happy Dancing, diretto da Viviana Petrone, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.